La forza d'attacco di Anakin ha abbattuto lo schermo planetario. Ora tocca a te. I nostri ricognitori indicano che il centro di comando dei separatisti si trova nelle vicinanze. Se riusciremo a distruggerlo, danneggeremo le loro comunicazioni e potremo muovere le nostre forze verso la capitale. Sento un grande disturbo nella forza. Lo sento anch'io. Il Conte Dugu starà caricando il suo Dark Reaper. Dobbiamo affrettarci. Per prima cosa dovrai ripulire la zona d'atterraggio in modo che le nostre forze possano sbarcare. Fai attenzione. L'area è ben difesa. Capisco, maestro. A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo tutti qui comandante, pronti per il decollo. Signore dovete liberare l'aria da tutti i nemici prima che possiamo atterrare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore, i nostri sensori rilevano diverse unità nemiche in avvicinamento. Dovrete coprirci fino a quando non saremo riusciti ad entrare. Grazie a tutti. Sono sotto il fuoco nemico. Grazie a tutti. Signore, abbiamo disabilitato gli scudi interni. E' nelle vostre mani ora. Grazie a tutti. Signore, signore, resteremo qui ad assicurare la zona. Signore, resteremo qui ad assicurare la zona. Grazie a tutti. siamo tutti qui ad assicurare la zona. Siamo tutti qui, comandante. Siamo tutti qui, comandante. Pronti per il decollo. Grazie a tutti. signore, signore, non potremo atterrare fino a quando non avrete distrutto tutte le difese nemiche nella zona. Pronti per il decollo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Signore abbiamo rilevato dei carri nemici in avvicinamento, stiamo inviando dei rinforzi per coprirti. Signore abbiamo rilevato dei carri. Signore abbiamo disabilitato gli schermi interni. Siamo fuori dalla zona, ora tocca a voi. Signore tutti gli impianti energetici sono disattivati. Potete distruggere l'installazione. Grazie mille Grazie a tutti. Maestro Windu, la fase 2 è stata completata. Potete procedere con l'attacco. Ottimo lavoro, Obi-Wan. Ora cominceremo il nostro attacco alla Capitale. Mi sono avvicinato all'antica città Sith, ma le difese nemiche sono ancora forti. Il nostro primo bersaglio saranno gli hangar dei caccia in questa zona. Ho appena inserito le coordinate necessarie. Anakin e Obi-Wan hanno svolto il loro lavoro. Ora tocca a noi. Questa battaglia decide il destino della Repubblica. Non possiamo fallire. Muoviamoci. Sous-주세요. Am мой? Amm. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, signore. Sì, signore. Ottima mira. Portiamoci al prossimo hangar. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Concentrate il fuoco. Ottimo lavoro, maestro Windu. Abbiamo neutralizzato la presenza aerea nemica. Ora dovremo occuparci delle loro forze di terra. Mace, la maggior parte delle forze separatiste provengono da due installazioni qui vicino. I nostri laser non possono penetrare i loro scafi, ma gli AT-E dovrebbero farcela. Dobbiamo proteggerli nel tragitto verso le installazioni. Grazie a tutti. 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 Signore, stiamo sbarcando dei rifornimenti vicino alla vostra posizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore, stiamo sbarcando dei rifornimenti vicino alla vostra posizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sbarcando dei rifornimenti vicino alla vostra posizione. Grazie a tutti. 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 Signore, stiamo sbarcando dei rifornimenti vicino alla vostra posizione. Signore, dovremo rompere questo posto di blocco. Signore. 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 Grazie a tutti. 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 Devi muoverti velocemente per evitare il freddo del Reaper. Lascia che sia la forza guidarti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.